ancora non è che riescano a mangiare molto bene quindi le dovrò aiutare perché a malappena si percepiscono i dentini eccoli qua siamo sui 15 20 giorni di vita qui proprio appena abbandonati appena tolta la mamma e buttati infatti non mangiano ancora non comprendono troppo terrorizzate quindi ora devo vedere come organizzarli per farle mangiare intanto facciamole tranquillizzare che gli passi un pochino di paura io di certo poverina il trauma è grande